La direzione investigativa antimafia di Caltanissette ha eseguito un decreto di confisca beni emesso ai sensi della normativa antimafia dal tribunale di Caltanissette, sezione misure di prevenzione, nei confronti di Francesco Ciccio Annaloro, sessantenne di Riesi, per un milione e centomila euro. L'uomo è in carcere per il cumulo di pena di complessivi setter gastoli per strage, omicidi e associazione mafiosa. Nel corso delle indagini sul patrimonio immobiliare riconducibile ad Annaloro sarebbe emersa una vistosa sproporzione tra i beni immobili e le capacità reddituali dell'uomo. La confisca riguarda cinque terreni, cinque fabbricati e due rapporti bancari. Un buon inizio per questo mio rientro in terra siciliana, un buon inizio con un'operazione molto curata nei minimi particolari fatta dal centro operativo di Caltanissetta. Un milione e centomila euro di patrimonio confiscati a questo che è un personaggio di tutto rilievo. Le torna in Sicilia a distanza di qualche anno, come puoi giudicare l'esperienza vissuta in Calabria e come giudica questo rientro? Quello che ho vissuto in Calabria è stata una cosa particolare, anni molto impegnativi da questo punto di vista perché la lotta all'Andrangheta lì fatta in trincea, in prima fila, dà dei risultati perché i risultati ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, sono stati fatti i sequestri di milioni e milioni di euro. Solo l'anno scorso il centro operativo di Reggio Calabria sequestrò più di 600 milioni di euro di patrimoni. Però ho visto una Calabria molto indietro anche nel rapporto tra il soggetto vittima di estorsioni e l'estortore. Praticamente qui in Sicilia, io mi ricordo anche da quando comandavo il comando provinciale della Guardia di Finanza qui a Caltanissetta, con la primavera degli industriali c'è stato un moto che vedo che continua, che prosegue tuttora, un moto di ribellione a racket, un moto di ribellione alla mafia che ancora non si registra purtroppo in Calabria. Quindi mi fa piacere ritornare qui e dare una mano agli industriali, agli imprenditori, ai commercianti nisseni e ennesi per cercare di camminare su questa strada. È importante, darà senz'altro dei successi. La mafia sarà sconfitta. La comandante della Guardia di Finanza di Caltanissetta, capocentro DIA di Caltanissetta, il metodo resta sempre quello? Beh, un'esperienza a lavorare alla DIA è un'esperienza particolare, molto importante, molto bella, devo dire, l'ho trovata molto affascinante, con grandi successi perché la possibilità di lavorare, di mettere attorno a un tavolo il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, dà un prodotto veramente di grande qualità perché si uniscono delle professionalità, è un lavoro fatto in sinergia che dà molti risultati. Certo il personale della DIA ovviamente è numericamente inferiore agli altri corpi di polizia, però questo non vuol dire che in alcune cose si possa fare veramente un lavoro egregio, che i magistrati apprezzano moltissimo.